Vittoria Silvstedt Victoria Silvstedt, età, altezza, fidanzato e vita privata della svedese Vittoria Silvstedt, vita privata, età, altezza, fidanzato e curiosità sulla modella svedese. Victoria Silvstedt è la svedese più amata in Italia. Modella, attrice, cantante e showgirl oggi ha 43 anni, è nata il 19 settembre 1974, ed è alta 180 cm. È diventata famosa per alcuni concorsi di bellezza e per un servizio a luci rosse su Playboy. Successivamente ha recitato in diverse pellicole fino ad arrivare in Italia, dove si è fatta notare nei film comici e nei famigerati cinepanettoni. La sua notorietà a livello mondiale è aumentata nel 1995, dopo un intervento chirurgico di mastoplastica additiva. Un'operazione che, come dichiarato dalla diretta interessata, le ha cambiato la vita e la resa decisamente migliore.Non solo cinema, nel corso del tempo, Victoria è stata protagonista di un reality sulla sua vita sul canale E! e ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2013 come ballerina per una notte. In più nel 1999 ha inciso un album dal titolo Girlon Terum. Dal 2014 cura invece un blog svedese intitolato Expressen. Vittoria Silvstedt, ex marito e fidanzato, la vita privata della bella svedese. Cosa si sa invece della vita privata di Vittoria Silvstedt? La showgirl è stata sposata per ben sette anni con il giornalista sportivo Shri Svraj. Quest'ultimo ha un cronista della CBS ed è stato a lungo impegnato con la svedese fino a quando una profonda crisi non li ha divisi e portati al divorzio. Archiviato quel matrimonio, la Silvstedt si è poi fidanzata con il miliardario svizzero Mauricio Dabbà. Quest'ultimo possiede un ingente patrimonio immobiliare e ha conosciuto l'attuale fidanzata grazie a degli amici in comune. La relazione dura ormai da tempo anche se i due non sono ancora riusciti ad allargare la famiglia. Vittoria non ha mai nascosto il desiderio di voler avere dei figli ma per ora non è riuscita a diventare madre. È però zia della piccola Lisa, figlia della sorella. Una bambina di 4 anni che è molto legata a Vittoria. Vittoria Silvstedt modella svedese, curiosità sulla showgirl e attrice. Vittoria e il fidanzato Mauricio convivono a Monte Carlo, dove conducono una vita lussuosa. A Monte Carlo sono residente da 3 anni dopo 13 anni negli Stati Uniti. Il problema è che qui non ho tanto spazio per i miei vestiti, la cucina è piccola, ma non la uso mai, vado quasi sempre al ristorante ha raccontato la Silvstedt qualche tempo fa. .